Fuori dalle ideologie e dai pregiudizi, la decisione sui dati oggettivi. Lo aveva scritto sul suo profilo Facebook la deputata Alessia Morani, che ha giudicato interessante la decisione del sindaco Seri di valutare i pro e i contro della fusione tra Aset e Marche Multiservizi. Un commento che non è passato inosservato al capogruppo della Lega in Consiglio Comunale Gianluca Elari, che ribadisce le conseguenze negative di un'eventuale aggregazione delle due aziende provinciali. È difficile capire che cosa stia succedendo, sia dal punto di vista dell'amministrazione comunale a Fano, ma anche alle amministrazioni limitrofe. Quello che sta accadendo, secondo noi, non ha alcun senso, perché bisogna partire dall'inizio. Bisogna partire da capire che cosa è Aset. Aset è un'azienda sana, che guadagna intorno ai 3-4 milioni di euro ogni anno e che gestisce i servizi in modo ottimo e fatta da persone in gamba competenti. Quindi non riusciamo a capire quale sia il vantaggio politico nel trasferire Aset in Marche Multiservizi. E Valter si è spiegato a chi ci ascolta a casa che questo passaggio porterà sostanzialmente a due grandi conseguenze sul nostro territorio. La prima è un aumento indiscriminato delle tariffe, perché è sufficiente andare a controllare quello che c'è oggi sul sito di Marche Multiservizi per vedere qual è il trend rialzista delle tariffe. Il secondo, invece, è la libertà di poter gestire i nostri investimenti sul territorio, perché voi dovete capire che il 50% dei ricavati di Aset verrebbero trasferiti verso l'Emilia Romagna e verso Bologna, perdendo così la libertà politica che ha la nostra amministrazione comunale nel scegliere dove investire quei proventi. Poi c'è una questione legata all'opportunità politica. Noi facciamo un appello a tutti i consiglieri comunali, quelli che non sono legati agli interessi di partito, in questo caso del Partito Democratico, e sappiamo che ce ne sono tanti, perché la maggioranza è spaccata su questo, a prendere atto che siamo noi a decidere, sono i consiglieri comunali a decidere, perché nello statuto di Aset c'è proprio scritto che è il consiglio comunale ad essere sovrano. Quindi noi abbiamo il dovere politico e morale di fare gli interessi della città e non gli interessi privati di un partito. Ilari, inoltre, commenta le parole dell'onorevole Morani, che secondo indiscrezioni potrebbe prendere il posto di Simona Malpezzi, la quale lascia il ruolo di sottosegretare ai rapporti con il Parlamento perché eletta ieri capogruppo al Senato del Partito Democratico. Secondo la Lega Fano, Morani dimentica di dire la verità ai fanesi e giudica le sue ultime dichiarazioni fuori luogo, perché dimentica, spiega Ilari, di come la precedente amministrazione regionale a guida PD abbia distrutto la nostra sanità. I cittadini, invece, hanno una buona memoria. È evidente che l'onorevole Morani, forse in cerca di una ribalta mediatica, per non essere dimenticata, si stia occupando anche delle questioni di casa nostra. L'abbiamo visto nella sanità qualche giorno fa, ieri, insomma, di queste ore, di questi giorni, anche l'intervento, diciamo, sulla fusione di Aset con Marche Multiservizi. È evidente che sta cercando un terreno su cui poi giurare fedeltà all'interesse del Partito Democratico, forse per essere rinominata nuovamente sottosegretario.